Aumento del pene in modo naturale, senza ricorrere a interventi dolorosi. È possibile? È interessante questo discorso perché molti uomini pensano di avercelo piccolo, no? E allora, navigando un po' nel web, si trova questi interventi miracolosi, no? Allungamento del pene, pene qua, pene là. E allora mi sono un po' documentato, insomma, su questo. Ci sono dei modi anche più disparati, no? Uno tramite pompe a pressione, no? Dice un aumento seppur temporaneo con alcune pompe a pressione che inserisce il fallo eretto in questo strumento, quindi con un anello e una pompa che crea un vuoto, quindi genera proprio un aumento fondamentalmente. Non so se è vero o se non è vero, però si può avere controindicazioni, però questo viene proposto. Poi ci sono esercizi di trazione addirittura. Questo è interessante perché uno potrebbe fare il bodybuilding del pene, il penebuilding. Esercizi di penebuilding. Questo è interessante, no? Quindi praticamente sono dispositivi in acciaio, spesso di forma cilindrica, dove inserisci il fallo, se è retto o se è flaccido. E, diciamo, è uno strumento che aiuta ad aumentare i centimetri, diciamo, con degli esercizi di trazione. Io non so quanto tira. Non so, i medici, se c'è qualche medico scriva qua perché sono dispositivi stravaganti questi. Poi ce n'è un altro che invece dicono che, o meno, è la mungitura, diciamo, quello che viene chiamato gelkin. Questo è abbastanza naturale perché non ha nessuno strumento. E, diciamo, è una sorta di mungitura, una sorta di massaggio che viene eseguito sul pene retto, spremendolo come se fosse una mungitura. E qua, probabilmente, non so se c'è uno, continuando, dicono, con questo esercizio tutti i giorni, si notano degli allungamenti. Questo però, credo che, vederlo così, sembra privo di contraddicazioni. Gli altri, questo sembra più che altro strumenti di tortura. Comunque, il concetto è tenetevi il cazzo vostro, fatevi che va bene così. Un po' più lungo, un po' più corto. Poi, se è corto, il problema non è vostro, il problema è della donna. Che cazzo ve ne frega a voi se è corto? Iscriviti al canale YouTube Massimo Terramasco e seguimi su Instagram, su TikTok, sempre Massimo Terramasco e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!